ah finalmente un po di pace amore buongiorno 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 che siamo venuti in vacanza per dormire forza chi è qui chiamo antonello l'animatore passarello quanto è bello quanto è bello io invece mi chiamo signora maria portacci tua sua e mia io vi ho già organizzato la vacanza e dobbiamo fare tutto acqua gym ballo di gruppo squadra animatore passarello l'anno prossimo la vacanza la paghi tu e la organizzi tu stanno l'ho pagata io e l'organizzato forza andiamo a fare acqua gym che è pieno di belle ragazze forza ragazzi alleniamo questi due dai forza uno due e le belle ragazze sono affocate faccio inventare belle salute giovanissime per me questo mi strappiglia piccolo io non la volevo fare l'acqua gym allora fra poco inizia la gara di ballo di gruppo ti scrivo va bene dammi nome e cognome veramente giovanoso non mi interessa mi interessa il nome e il cognome signora poi vi scrivo il tiro con l'arco va bene giovane noi siamo ciechi allora solo il signore va bene ma non è vero che sono ciechi tieniti pronto per la bebidenza se ne dico 50 anni che bebidenza devo fare allora dopo 5 punti alla squadra di squadra sta parlando mi raccomando vi ricordo che domani sera c'è la serata a tema natalizio venite con l'abbigliamento giù ovviamente tu non hai portato niente di natalizio e che dovevo portare maglione sciarpe l'albero di natale a luglio torneo di burraco partita di calcetto alle 3 con insolazione in omaggio racchettoni managlieremo Artur Bagnoni ciao a tutti ci mancherete tantissimo quanto è bello comunque ci siamo rilassati dai poi l'animatore era anche un amore tu ti sei divertito a me Antonello Cazzarello mi è levata la via e poi questione di educazione eh voglio dire ma no che non ti vado a scondire ho voluto trovare uno a casa è proprio un amore ma vuoi l'amore ma mi viene l'infarto mi scoppio l'amore vaffanculo a te l'animatore vaffanculo a te l'animatore